Sono Bencini Iuri, sono il proprietario dell'azienda agraria Casa Nuova di Ama, un'azienda della famiglia Bencini da generazione. Qua c'è un'origine che parte dal vigneto per poi continuare in cantina e arrivare fino al punto vendita e a tutte le tavole dei nostri clienti. C'è un lavoro che viene seguito interamente dalla famiglia cercando di curare e di avere il miglior prodotto finale e cercando di accontentare il gusto di tutti i nostri consumatori. Ad avere la mia bottiglia in mano provo una grande soddisfazione perché comunque in questa bottiglia c'è racchiuso tutti quelli che sono i sacrifici della mia famiglia sia della generazione attuale ma anche da chi ci ha preceduto e che ci ha dato la possibilità di continuare a fare il nostro prodotto e a trasmettere l'amore per quello che facciamo e per mettere sulle tavole dei nostri clienti il nostro amore.